La ragazzina sta decisamente meglio e sveglie, ha già parlato a familiari, amici e medici e la dodicenne rumena è rimasta gravemente ferita la scorsa settimana lungo la strada che dallo svincolo San Filippo conduce alla statale 114. Era stata centrata da una smart di colore grigio e prontamente soccorsa trasportata ad urgenza al policlinico. I primi controlli avevano fatto temere il peggio mentre da poche ore la dodicenne è stata anche stubata ed è vigile segno che il trauma cranico e l'emorragia non hanno provocato complicazioni irrimediabili. Lei resta ricoverata in terapia intensiva alla pediatria del nosocomio universitario. Il conducente della smart invece è risultato negativo ai test di alcol e droga eseguiti poche ore dopo il sinistro. Sulla dinamica dell'incidente prosegue l'inchiesta della polizia municipale.